Allora, io mi chiamo Lisa Puzzebon e faccio la mamma a tempo pieno di un bambino di quasi due anni, tra poco avrà due anni. Io consiglio questa scuola, la consiglio perché prima questa scuola ti aiuta a capire la tua essenza, la tua vera natura e ti aiuta anche a parlare con gli altri e incontrare gli altri e ti aiuta anche ad aiutare quindi poi gli altri. Cosa ho apprezzato? Che lui sa, io ho scelto questa scuola perché è una delle poche persone che mi ha dato proprio la sensazione, anche proprio è lui così, che lui sa tanto di tante cose, però non se ne vanta e mi piace, mi piace questo genere di persone che sa ma non si vanta di tutto quello che sa.